Ciao pezzo, benvenuti in un nuovo episodio di M.F.E. Ehm, sai come dovresti chiamarti? M.F.E. Invece di New Final, M.E.U.F.E. Così sembra un gatto. No niente, stavo scherzando. Allora, oggi come ho detto nello scorso episodio faremo i golem. Ehm, per... Per, per, per... Per qualcosa. Per... Stronzo. Stronzo, sei uno stronzo. Non ti voglio più. Rimetti il legno adesso. Ah no, ce l'ho io. Ehm... Per, per le piantagioni. Cioè, essenzialmente è per quello. Maria! E non solo per quello. E la... Allora. Vutami giù un'altra volta e ti faccio vedere... La mia lascina, eh. E questa qua, lasciami. La lasciami. Aspetta che... E la trastare. La trastare, lasciami stare. E... E come si fanno i golem? Allora, cominciamo dal pezzo. Mi serve acqua. Tu sei quello che... Sei il nostro golem porta acqua, final oggi. Guardate il mio secchio e io urino sulla vostra madre. Ce l'ho io, vieni qua. Mare. Tan 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 tan. Sì, stavo guardando la camminata di final. Problemi. Allora, da qua ci serve... Lo strogolem, naturalmente. Come si fa? Allora, ci serve Lloyd Bale, Spiritus, Motus e Humanus. Dove li trovo? Boh. Allora, mi serve Spiritus, Motus e Humanus. Humanus. Dove lo minchia lo trovo? Dalla carne marcia. Buona a sapersi. Sì. Spiritus. Allora, ti butti dentro. Spiritus. Da tanta roba. E... Umano... No, Humanus l'ho già visto. Spiritus. Eh? 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 No, non è qua. No, non è andato niente. Beh. Eh... Boh. E Motus. E Motus. E Motus lo danno in pistoni, sto cazzo. Oh, ho le porte. No, le trapdoors. Io usavo le trapdoors. Le porte. Oh, anche le trapdoors. Ma è stesso costo, è uguale. Eh... Però questo ne da uno. Le trapdoors quando ne danno? Anzi, le trapdoors non le avevo neanche viste. Mai fatte. Uno? Eh, buon. Ce ne da due. Buon, perfetto. Abbiamo... L'Humanus. No, abbiamo... Motus. Ci serve il... Questo? Lo Spiritus? Sì. Quanto ce ne serve di Spiritus? Bordelli? Quattro? Buon, perfetto. E L'Humanus? L'Humanus come si faceva? Ah, sì, con la carne marcia. Questo. Perfetto. Allora, andiamo qui. Andiamo qui. Anzi, mi serve anche la paglia. Bene di tutti, eh. Adesso ti faccio andare su e giù. A prendere gli oggetti. No, devo trovare la paglia. Non ti ti pensi di... Ok. E niente che non tradirai. Che cosa stai facendo? Ringando. Ok, va bene. Eh, io devo andare su. Io lo trovo la paglia. Ma sì. Dovevo andare su Facebook. Scrivere, ho la paglia in mano. No, dovevo mettere il mio piastro, no. È una pagina. No, l'avevo fatto. Qui. Allora. Quanto ne ha questo? Quattro. Vabbè, è già pieno di roba, però. Quanto ne ha questo? Uno. Quindi, uno. Gli ho buttati dentro tutti. Sì. Poi, quanto ne ha questo? Dove buttarne dentro. Veloce, veloce. Veloce. No, me l'ha fatto. Ah sì, me l'ha fatto. Ok. Abbiamo un nostro strugale. Yeah, madafacca. Eh, sì. E ora devi distruggerlo. Per forza. Ah, anche così? Sniffi tu? Allora, dobbiamo fare anche il Galgathrow. Cos'è? Non ho uno speciale dinosaurio? Fai il Golem Animation Core, così siamo a posto per Doc. Devo fare anche questo. Cos'è il Golem Animation Core? Devo fare questo. Il Golem Animation Core? Non sai cos'è? Il Gatter, sì. Gatter, gatter. Dai su. Fatti, gatter, gatter. Allora, mi serve il quarto, non posso prenderla da qua. Dei bastoncini. I brick, abbiamo la faglia qua, ancora. Mi serve anche il Nitor. Come si fa il Nitor? Cazzo, sto facendo. E poi, non ho voglia. Eh, che non ho voglia. Che cazzo facciamo? È di luce. Luce di carbone. Luce di carbone. Pannellina. Perfitto. Pannellino. Poi, dovrei fare anche questo. Andiamo a prendere le Golden Nuggets. Mi serve un Ordo Shard. E le Golden Nuggets. Le Golden Nuggets. Mi tocca buttar via un blocco. Vabbè. Eccole qua. Andiamo qui. Allora, Golden Nuggets. E... Questo. Più questo. Sniff, sniff, sniff. Sniff, sniff, sniff. Che cosa stai facendo? Sniffa, sniffa. E abbiamo anche questo. Perfetto. Poi ci servirebbe anche il Golem. Questo qui. Che ho quella prima. Cavati. Sniffa. Allora, via questo. Poi. Uno, due, tre, quattro. Mi serve carne e marcia. Hai carne e marcia. Veloce carne e marcia. Quanto ne ha questo? Uno. Me ne serve un altro. Vaffanculo. Che dopo fa casino, dopo fa casino, dopo fa casino. Veloce, loce, 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 loce. Carne e marcia. Sì. Ehm... Guardi, vini, strade, doce, tra... Non ti te ne sono, uno di quattro... Mi serve il Great Wood. Mi serve il Great Wood. Dov'è? Abbiamo il Great Wood. No, no. Abbiamo il Great Wood. Sì, abbiamo il Great Wood. Ma se me ne preparo le cose prima di bestemmiare in questo modo. Dove sono... Me l'ha dato? No, non me l'ha dato. Strato. Non me l'ha dato. Non mi ha dato una sega Vabbè Sniffa, sniffa Non mi ha dato il coso Allora, questo ce l'abbiamo La carne marcia mi manca E mi manca anche La testa No, però ce l'ho, perfetto Mi serve carne marcia Andami qua Che cazzo stai facendo? Ok, allora Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Uno E uno Eccolo qua Perfetto, ne abbiamo due E ora mancano soltanto gli animation core Hai fatto gli animation core? No Le palle Io sto facendo i cosi I animation core I golem core Eh, i golem animation core Ah, sì, sì Ho fatto due niter per adesso Solo? Eh, beh, scazzo Hai fatto i brick I bricks I bricks Non abbiamo E io sto facendo altro In questo pc I bricks Dove sono i bricks? Perché altro? Abbiamo clay Dove è la clay? Qua è la clay? Qua è la clay? Qua è la clay? Eh, ah No, non voglio cuocerli Assolutamente Assolutamente Anzi, lì L'interno E non devi avere 8 8 Ok, 8 8 8 8 Facciamone anche di più Facciamo 16 Andiamo a depositare il tutto Cioè, almeno le cose che si possono cuocere Tipo questo 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 Questa ho paura Questo Questo si cuoce Questo si cuoce Si serve il gutter Il gutter Sì Dopo Vabbè dopo lo faccio Tieni Ah, vabbè Non me ne sono liberato Degli altri Sono demente Ehm Sì Sì Ehm Fai quelli Poi mi serve Prepariamoci il resto Devo fare l'harvester Si fa col meto Ma cazzo lo trovo il meto? E Questo Che si fa col lucrum Minchia Costi un bordello Ciccio Allora Lucrum Vieni E Il meto Dove cazzo lo prendo il meto? Meto Meto Dal grano Ehm Vieni con me Aspetta Meto Intanto Preparate Questo 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 Devo io Meto Dove sei Meto Aperta Il lucrum Da dove cazzo lo prendo? Eccolo qua Dal loro No no I diamanti No Ah il meto Lo prendo dalle Oe Eh si Scusa 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 No stai scherzando Quante devo fare? Cinque Minchia Tac Facciamone Anche questo Perfetto E sono a cinque oe Sarà un bordello Buttarla dentro Poi per fare questo Mi serve anche il meto Che me lo da Il grano E me ne da due Quindi si ok Quindi tre di grano Qua dentro c'è roba Però vabbè Ehm Allora Però mi serve anche il modificatore Che si fa con questo Ok Ce li ho no? Si Allora Mettiamoci qua Uno Due Tre Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Oh L'harvester ce l'ho Ora mi serve L'altro Che si fa con l'ucrum Il lucrum è la terra La terra si fa con La terra? Sono un genio E E Il lucrum si fa con L'oro Buon perfetto Ho questo Ho questo E il gutter Perfetto Dai Veloce 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 Quanto lucrum E quanto terra? Non mi ricordo più Cinque e cinque Buon perfetto La terra ne ha Due Questo ne ha Due Perfetto Quindi Uno Due Tre Uno Due Tre Uno E ho anche il gutter Perfetto Quindi ora andiamo a vedere come funziona Ok eccoci qua Allora Prima Senza distruggere il terreno Grazie Prima cosa da fare E andare qui da una cesto E piazzare il nostro golem Vedi che adesso funziona? Perché gli serviva la terra sopra Sotto Lo piazziamo Non mettevi sopra la cesta? No non va Si apre la cesta Il nostro golem però vedete che sembra tipo un robot Appena uscito dalla fabbrica Che non si muove Non fa una sega Quindi dobbiamo mettersi il suo animation core Ci mettiamo il gutter Cioè quello che raccoglie Vedete che subito va in giro A Fare cagate A raccogliere naturalmente Perché è fatto per raccogliere Naturalmente va a raccogliere E andrà A metterlo spero dentro la cesta Tadam Perfetto Però lui non fa un cazzo qui Come facciamo noi? Dobbiamo mettere l'altro gole Lo straw gole Lo mettiamo qua sopra Dobbiamo mettergli dentro Dobbiamo mettergli Il golem animation core Questo qui Però prima di mettergli questo Ci mettiamo L'upgrade Gli mettiamo l'upgrade Cosa fa l'upgrade? Gli permette ogni volta che spacca Di ripiantare l'oggetto Perché se gli mettete soltanto Se gli mettete soltanto l'harvester Lui rompe Però non ripianta O potete fare un altro golem Che ripianta Però è un casino Quindi lasciate stare Noi facciamo destro con questo E lui andrà E ripianterà tutto E il nostro golem raccoglierà Quello che rimane Quello che rimane E lo metterà dentro la cesta Tadam Però vedo che non è compatibile Con la No Non è compatibile Con la Magical Crops È compatibile L'ha spaccata Sì E l'ha ripiantata Però non spacca il resto Non spacca Non spacca moltissimo Però va Per fare il resto Fate Clicc destro Sul golem E li cliccate destro Anche qua In modo che gli diciate Ehi Guarda che deve andare Anche a raccogliere Sta cagata Ma Ma che cazzo Su questo Tu devi raccogliere Questo 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 No no Non si è trancato C'è C'è un problema Qui Ho fatto una cagata Come faccio a togliere Tutte Sì C'è anche questo Ma ce l'ho io No vabbè Non serve Non le prende Nella stessa mod Non le prende Vabbè Sì Metti via tutto Tu Ma che cazzo Sto facendo Però non prende Questi Ma i barley Cazzo Barley Barley Hai mai sentito Parlare di barley Hai preso il cotone Non l'hai preso Barley Cosa Perché Whitestone lab Ma che cazzo Via il barley Tanto è un seme Come l'altro Mettiamo Il grano normale Perché questo Questo dice Whitestone lab Boh vabbè Sarà un bug Di Di Coso Di Di Allora Metti semi No Pianta semi Piante semi Che tanto Servono sempre Eccola E niente Questo è il nostro Campo Ora è in automatico Quindi cresce Loro raccolgono Cresce Loro raccolgono Cresce Loro raccolgono E il chunk loader Che ha chancato Tutta l'isola Ci permetterà Di avere Una produzione Infinita Sì In effetti Sì Quindi questi Sono i golem Quello che volevamo Arrivare Fin dall'inizio Alla fine E più o meno Per fare le farm Poi inizieremo Anche con l'infusion Nel prossimo episodio Nei prossimi Dipende Cosa vuole fare Nel prossimo final E niente Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Come sempre Lui non può parlare Linea alla studio